In Puglia aumentano del 10% le denunce di infortunio sul lavoro in agricoltura. Si registra anche un incremento del 16% di casi mortali. A darne notizia è la col diretti regionale sulla base di dati INAIL. Nello specifico, gli infortuni risultano 1.466 da gennaio ad agosto 2023 rispetto ai 1.338 dello stesso periodo dell'anno precedente. Bisogna rendere il lavoro in agricoltura tecnologicamente avanzato e sicuro, sostiene Coldiretti e per questo, aggiunge, è necessario che le istituzioni a tutti i livelli implementino le opportunità occupazionali nel settore agricolo attraverso interventi di stabilizzazione del lavoro garantendo flessibilità e competitività all'impresa, continuità di reddito e sicurezza al lavoratore. Intanto, l'associazione ricorda che sono in arrivo i fondi per i familiari delle vittime. Si tratta di uno stanziamento aggiuntivo che integra le risorse già a disposizione dell'apposito fondo istituito nel 2007. Il beneficio, erogato una tantum, spetta a coniuge e figli.